Oggi ti mostro come preparare dei segni a posto natalizi, commestibili e davvero suiziosi. Per prima cosa stendi un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Cospargi la sfoglia con un po' di parmigiano grattugiato. Aggiungi qualche fetta di prosciutto cotto. Taglia la sfoglia, nel senso della lunghezza, a fette di circa 2 cm di spessore. Piega la sfoglia fisarmonica cercando di darle una forma d'alberello. Infila gli spiedini al centro di ogni alberello e aggiungi un'oliva sulla sommità. Inforna a 200 gradi per circa 15 minuti. Sforna gli alberelli di pasta sfoglia e Buon Natale!